Maya e Lina Che è successo Maya? La mia Lina piange Secondo me le serve un dottore Mamma io so dov'è il dottore Là Dov'è il dottore Maya? Là Mamma non si può entrare con le scarpe Guarda che bello scivolo Voglio montarci Maya Maya Mi sembra che Lina stia già meglio Alla prossima Ho vinto Mamma Lina è guarita Sono la migliore dottoressa che ci sia Maya 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 Lina è completamente guarita Allora torniamo a casa No Lina ha bisogno delle vitamine Sì esercizi vitaminici Andiamo Alla prossima Alla prossima Sì, non è vero. Ancora Maya, questa è una zona per i piccoli. Tieni Lina e io vi aspetto qui. Uff, adesso dobbiamo prendere anche noi le vitamine. Mmm, a Lina piace! Maia, hai ragione, sei la dottoressa migliore del mondo e tu hai mai curato così i tuoi giocattoli? Allora metti mi piace e guarda altri video dello show Maia e Lina! Ciao! Ciao! E non ammalarti più!